Ciao a tutti, bentornati a questa nuovissima, oggi faremo la sposa cadavere, non sono sicura se farà giusto o uguale, ho utilizzato questo qua che ho usato per fare hit l'anno scorso, cream make up, con tutta la schifezza dentro del mondo, il bianco e utilizzerò, visto che qua è l'azzurino, il celeste di Bottega Marta, che non mischiano il bianco, vi salto il pezzo del bianco, almeno facciamo più veloce. Già mi faccio paura la sola, mamma mia, mamma mia, è totalmente abituata con hit che è più facile. Allora prendiamo l'azzurro celeste, prendo il pennello numero 12, piatto grande, spero che si sia asciugata perché sono stata più di mezz'ora, stai dietro. intanto sopra di tagli un po' di azzurro, se meglio, io lo do con le maniche, è molto meglio. ecco, così, mamma mia. ti arrotolo la parte perché, se no, non lo finiamo più. ebbene, sto usando due dita perché è così, mi ne è più facile. io dire la parola rotolare, non mi so. sto utilizzando con le dita perché si mischia anche col bianco, la parte azzurra. infatti fanno un po' di azzurra, infatti fanno un po' di azzurra, infatti fanno un po' di azzurra, di azzurra, però adesso, ecco, c'è la parte fresca, peccato fuori. c'è la parte ancora fresca. ogni modello ti parte per adesso, se lo guardo. è un po' di azzurra. la parte più difficile. si sta già togliendo. ahhh. ehi. ahhh. 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 si leva ok correggia tutto beh beh non è uguale identico vabbè non mi interessa l'importante che sia che ci avete venuto allora prendiamo il pennello utilizzo il litro prendo il mascara nero e segue guarda se è già asciugato adesso si stiamo giusto che abbia il pennello prendo quello un golight del 5 ovviamente utilizzando l'eyeliner un pochino si asciuga usando il maschera voglio dire scusate un pochino Grazie a tutti. 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 a tutti. Noi ci vediamo. a tutti. a tutti.